La fiction televisiva credo che rispetto al cinema, visto che poi si chiama sempre un confronto fra queste due forme di racconto per immagini, rispetto al cinema ha qualcosa in più, ha qualcosa in meno su diversi fronti e qualcosa in più rispetto alla questione del tempo, cioè ha proprio la possibilità di prolungare il racconto, di prendersi del tempo per scavare nel passato, nelle forme della storia, nelle controversie, nelle contraddizioni del passato e quindi in qualche modo cercare di approfondire, allargando lo spettro degli eventi, dei personaggi, del racconto, quella che è la realtà storica che è possibile ricostruire attraverso le forme della narrazione. La serie migliore che si possa trovare su questo tema e che ha approfondito questo elemento è proprio IMAT di Edgar Wright, che è un prodotto nato come prodotto televisivo e poi è diventato quasi specificatamente cinematografico perché Edgar Wright è stato ed è tuttora un grande regista di cinema. Un'altra sede che mi sentirei di proporre sul medesimo argomento è Mad Men, su cui verte proprio il mio intervento durante il convegno, in cui si ricostruisce la cultura e la società americana tra gli anni 60 e gli anni 70 con la prospettiva della pubblicità e si cerca proprio di capire come attraverso la nascita degli slogan pubblicitari, che poi sono diventati gli slogan tipici della nostra epoca, si è andata sviluppando l'idea di cultura americana, di società americana, di spettacolo, di costume tipicamente americano. Il mio intervento su Mad Men verte proprio sulla caratteristica di questa serie che ha cercato di ricostruire il passato dell'America, sì con un occhio del presente, sì andando a cercare i segni del presente nel passato, ma ha cercato soprattutto di indagare non quel passato guardando al futuro, ma le radici da cui è nato il presente in cui viviamo. Non è una serie che ha la grandezza di Heimat, di Reitz, che è un grande affresco sulla storia tedesca del Novecento, ma è credo uno dei migliori prodotti televisivi che si rapportano con la storia e la possibilità di raccontarla.